Oggi andiamo a provare su strada la Golf 6 1.6 Trendline La vettura è stata immatricolata nel 2010 a 4 anni e a soli 83.000 km è stata tenuta comunque bene, a parte qualche piccolo graffio di normale oscura interna e la carrozzeria si trovano in buono stato, è una macchina costitutiva, ma a mio avviso è molto bella, davvero molto bella ha gli optional di base, gli interni sono in stop ed ha una buona finita di strada io ti consiglio di venirla a provare, di venirla a vedere in sede noi ci troviamo a Sala Consilina e via Funti mi chiamo Simona e lavoro presso la Peltop i nostri uffici sono aperti tutti i giorni dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 19.30 il sabato a mezza giornata dalle 8.30 alle 13 il nostro numero è 0975 520 350 ti aspettiamo, ciao!